Diciamo ci sono due candidati, uno è Donald Trump candidato per il Partito Repubblicano alla terza elezione consecutiva in cui si candida, l'altra è Kamala Harris che è la vicepresidente in carica ed è subentrata come candidata dei democratici dopo il ritiro sorprendente anche perché senza precedenti a questo punto della campagna del presidente Joe Biden, ritiro che però quando è arrivato ha stupito fino a un certo punto perché si veniva da qualche settimana, soprattutto le settimane successive al confronto TV di fine giugno in cui tra i democratici stessi erano emersi tantissimi dubbi sul fatto che Biden potesse innanzitutto fare una campagna elettorale efficace, potersela giocare, ma poi fare il presidente fino a 86 anni, cioè fino all'inizio del 2029. Per cosa si vota? Si vota per la presidenza degli Stati Uniti ma lo dicevamo anche poco fa per il congresso, elezione importantissima anche solo appunto per capire che cosa potrà o non potrà fare il presidente del futuro tra i suoi obiettivi, tra le promesse che sta facendo. Ci sono per questo alcuni trend storici che è sempre interessante osservare quando si guarda una campagna americana che in questo caso sono un po' più misteriosi da sondare. Per esempio nelle elezioni americane che sono quasi sempre una faccenda binaria con due grandi partiti e quindi due candidati, uno interpreta il ruolo del cosiddetto incumbent, cioè chi è già al potere e l'altro dovrebbe essere l'outsider, cioè chi è all'opposizione. In questo caso Trump è il candidato tecnicamente all'opposizione perché Kamala Harris è alla Casa Bianca del vicepresidente, ma dato che Kamala Harris non è la presidente in carica e i vicepresidenti ovviamente hanno la responsabilità politica del governo anche loro ma non hanno autonomia politica, i vicepresidenti sono dei soldati, non possono prendere iniziative che non siano concordate con il presidente. Il fatto che Harris sia una figura nuova non solo perché Trump è già stato presidente, candidato per due volte, ma anche nuova sul piano dell'identità, sarebbe la prima donna presidente degli Stati Uniti, quest'anno quantomeno sul fronte dell'opinione pubblica non è così facile capire chi venga percepito come l'incambient, come la persona già che fa parte di chi sta al potere e chi invece sia l'outsider. L'altro trend storico è che noi osserviamo questa elezione come osserviamo ogni elezione, come la pensano gli americani e pensiamo di avere il 5 novembre la risposta. Chiaramente ogni paese ha un metodo diverso per trasformare i voti espressi dalle persone in seggi o comunque in un risultato e nel sistema americano di cui parliamo tra un attimo è possibile ed è anche successo e anzi il trend accadrà sempre più spesso che la persona più votata poi non vinca le elezioni. Tra poco vi racconto com'è possibile ma questo innanzitutto ci è utile tenerlo presente. Se dalle elezioni noi vogliamo sapere come la pensano gli americani, per esempio nel 2016 dovremmo concludere che gli americani preferivano Hillary Clinton ad Donald Trump perché Clinton prese 3 milioni di voti in più di Trump ma per come funziona il sistema la vittoria di Trump fu perfettamente legittima ovviamente Trump vinse quelle elezioni. Arriviamo quindi al metodo che ogni 4 anni poi magari a volte rispolveriamo perché vogliamo capire meglio come si elegge sto presidente poi ci dimentichiamo qualcosa o viene fuori qualche altra norma astrusa oppure leggiamo come in queste settimane, in questi mesi dei sondaggi senza sapere quanto pesano realmente. Immaginiamo come che sia una specie di gioco da tavolo, questo è il nostro tabellone, è la mappa degli Stati Uniti, vedete che dentro ogni stato c'è il nome dello stato, ecco se questo fosse un tabellone di un gioco da tavolo immaginiamo di guardarlo non con i nomi degli stati ma con questo numero, con questi numeri al centro di ogni stato. Facciamo che questo sia un gioco, seguitemi, se sapete diciamo già dove andiamo a parare e portare pazienza ma se no portare pazienza lo stesso e questi siano dei punti. Questi sono i punti messi in palio da ogni stato perché, e questa è una cosa molto importante, ci sono 50 di fatto elezioni diverse in ogni singolo stato, questi si chiamano Stati Uniti non a caso, non esiste una unica elezione federale. Chiaramente si vota lo stesso giorno, gli stati votano lo stesso giorno ma anche lì si comincia a votare in anticipo in molti stati, si vota con regole diverse a volte stato per stato, le regole sulla campagna elettorale a volte possono cambiare e quindi quando noi in questi mesi per esempio leggeremo un sondaggio nazionale come ne vediamo ogni giorno tra Trump e Harris, Trump 51, Harris 48, viceversa, stiamo guardando un dato che non è il dato che conta alle elezioni perché si vota appunto stato per stato. Torniamo al nostro tabellone. Ogni stato mette in palio, per esempio guardate il Texas che è quello più grande quindi si nota subito lì in basso, un certo numero di punti. Questo numero di punti è correlato alla popolazione di quello stato, è una correlazione però che non è perfetta, è una correlazione imperfetta nel senso che c'è una correzione per cui gli stati più piccoli e meno popolosi contano un po' di più di quanto conterebbero se fosse un calcolo di proporzionalità esatto tra popolazione e punti. I punti in totale sono 538, diventa presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei punti quindi almeno 270, come si vincono questi punti? Immaginiamo di competere appunto in Texas ma vale per tutti gli altri stati, si presentano i documenti per candidarsi in ogni singolo stato secondo le regole di quello stato, si vota, poi si contano i voti e i 40 punti del Texas non verranno distribuiti in modo proporzionale, cioè se Trump prende il 60% prenderà il 60% di questa fetta, ma in modo maggioritario gli americani dicono winner takes all, chi vince in Texas anche se vince di un solo voto, chi prende un voto in più degli altri si porta a casa tutti e 40 i punti del Texas. Per questo vi dico sono delle elezioni singole, ognuno in ogni stato, il divario si misura in ognuno degli stati e i punti vanno per ogni stato a chi prende più voti di tutti, sono due, quindi poi c'è anche una grande tendenza ad aggregare delle grandi coalizioni di elettori anche con idee diverse attorno a ognuno di questi due principali candidati. Questo ci spiega... Il fatto che chi prende più voti a livello nazionale non è detto che abbia poi i cosiddetti grandi elettori per essere nominato presidente è una diretta conseguenza del fatto che ci sono questi aggiustamenti della proporzionalità negli stati con i loro abitanti. Sì, ma non solo, soprattutto incide il fatto che il divario tra i candidati nei singoli stati non conta. Vi faccio un esempio concreto, ma ne faccio poi anche uno astratto forse più semplice. Lo stato più popoloso degli Stati Uniti, lo vedete guardando la mappa a sinistra, è la California. Ha 54 punti che mette in palio. I punti sono i grandi elettori, ma vi dico perché per adesso li chiamo punti. In California i sondaggi, la storia ci dice che i democratici stravincono. Vincono con distacchi anche di 30 punti percentuali. Cosa voglio dire? Kamala Harris in California vincerà con un distacco magari anche di 5-6 milioni di voti. In altri stati però i distacchi sono molto più piccoli. Possono essere anche 10.000 voti e quindi tutto quel vantaggio, questi 5 milioni in più, Kamala Harris che ha preso in California, non se ne fa niente perché prende comunque 54 grandi elettori. Per farvelo in modo più astratto, immaginiamo di avere due candidati, Mario e Paola, e si vota soltanto in tre stati, lo stato verde, lo stato giallo e lo stato rosso che mettono in palio, lo stesso numero di punti. 20, 20 e 20. Mario vince nello stato verde ottenendo 95 punti, un risultato bulgaro, votano tutti per Mario, Paola soltanto 5, avendo vinto in quello stato prende 20 punti. Negli altri due stati vincerà Paola ma vincerà per un solo voto, 51 voti contro i 49 di Mario. Ora, se sommiamo tutto, in termini di voti Mario chiaramente ne ha presi di più perché ha quei 95 presi lì, 95, 49, 49. Paola ne ha presi meno perché ha avuto un enorme distacco nello stato verde, negli altri due ha vinto ma di un voto soltanto. Eppure Paola ha vinto in due stati, Mario in uno, quindi Paola ha vinto 20 punti e 20 punti 40, Mario in un solo punto quindi 20. Conta chi vince stato per stato, questo è il motivo per cui bisogna guardare i sondaggi dei singoli stati e i risultati dei singoli stati e allora aggiorniamo di nuovo il nostro tabellone. Questo è diciamo il tabellone di partenza di questa elezione. Vedete che alcuni stati sono già colorati, quasi tutti, non perché sappiamo già come andrà a finire ma perché possiamo fare una previsione che non teme smentite sulla base della storia, sulla base dei sondaggi, sulla base di quello che vediamo sul campo, di stacchi che non possono essere colmati nemmeno in caso di sorprese nei sondaggi. Gli stati che vedete colorati in rosso sono gli stati in cui vinceranno i repubblicani, vincerà Trump o meglio. Gli stati che vedete colorati in blu, perché in America i colori della politica sono invertiti, il blu è il colore della sinistra, il rosso della destra, sono quelli in cui possiamo dare per scontato che vincerà Kamala Harris. Gli stati che vedete in grigio sono gli stati in cui questo risultato non è scontato, sono i cosiddetti stati in bilico, sono quelli in cui di fatto avviene la campagna elettorale, i candidati stanno soltanto in questi stati qui, quelli che secondo i sondaggi, i precedenti, sono effettivamente contendibili. Sono sette, ve li racconterò adesso meglio, li vedete lì, c'è una fascia in alto, ce n'è una più in basso. Questo è il risultato delle elezioni del 2020, quando gli stati in bilico erano più o meno quelli di questa volta, alcuni lo sono quasi sempre, altri smettono di esserlo a un certo punto, per esempio tra quelli che vedevate prima in bilico non c'è l'Ohio, noi continuiamo a dirci l'Ohio, l'Ohio d'Italia, quale sarà? L'Ohio non è più lo stato decisivo, quello che dici da che parte sta il paese, altri lo sono diventati. Nel 2020 finì così, Joe Biden finì per vincere in tutti gli stati in bilico, salvo il North Carolina, che è quello che vedete nella costa est con un 15, quello stato lì è uno stato in bilico in cui Trump ebbe la meglio. Fu una vittoria abbastanza larga di Biden, che però maturò tramite una serie di vittorie abbastanza streminzite, per esempio in Arizona, in Georgia e in alcuni stati del nord. Adesso entro un po' più nel dettaglio, ma questo è il sistema, tutto sommato non è così complesso, i punti sono i grandi elettori, cioè non si vincono dei punti effettivamente, ma ogni stato, secondo il candidato per cui vota, sceglie una lista di persone che poi voteranno effettivamente, quindi l'elezione sul piano formale è in diretta per il nuovo presidente. Queste persone sono anche libere di votare per chi vogliono, cioè non sono vincolati a votare per il candidato che ha avuto la maggioranza nel loro stato, ma non succede mai che votino per qualcun altro cambiando il senso rispetto alla volontà popolare. La Corte Suprema ha detto in diverse sentenze dovessi accadere non vi rischiate perché è chiaro quale sia il meccanismo, quindi è più semplice pensarla come punti, ma sono effettivamente delle persone che si riuniscono una volta, esprimono questo voto, che è un voto quasi automatico, l'organo poi si scioglie, non ha niente a che fare col congresso quindi, non sono i deputati parlamentari. I casi Nebraska e Maine sono due stati che attribuiscono i grandi elettori in modo un po' diverso, con un sistema maggioritario ma collegio per collegio, è una cosa un po' da nerd, che non è il caso di spiegare qui, ma c'è questa piccola variabile e può essere importante nel caso in cui finisca 269 pari, perché uno potrebbe pensare ma questi quando hanno scelto il numero totale dei grandi elettori non potevano scegliere un numero dispari, così da essere sicuri che ci fosse comunque un vincitore. C'è uno scenario, mai accaduto nella storia, ma possibile, per cui finisca pari anche per questi collegi che vengono dati singolarmente. Se finisse pari voterebbe il congresso, anzi la Camera, anzi le delegazioni statali della Camera, chi sarà il presidente, sarebbero favoriti i repubblicani in quel caso. Si vede che queste sono norme che hanno secoli, sono stati i primi a inventarsi un sistema democratico per eleggere un capo del governo e non l'hanno più cambiato da allora, gli americani o quasi. Può vincere chi prende meno voti, è il punto che abbiamo sollevato poco fa. Qualche altra informazione utile allora per capire come orientarci in questi ultimi mesi di campagna elettorale. La prima è che la terra non vota. Questo è un concetto da tenere presente quando si guardano le mappe elettorali americane come questa, che divide il paese contea per contea e vediamo che è tutto rosso. Ma queste mappe ci dicono il territorio e il territorio magari però è completamente disabitato. La gran parte della popolazione americana vota nelle coste, vive nelle coste e quindi anche se le mappe ci mostrano sempre un grande predominio di rosso, poi in realtà, come ascoltavamo anche poco fa, la situazione è molto equilibrata tra i due partiti. Vi dicevo che questi qui sono gli stati in bilico, questi sono quindi gli stati in cui ha senso guardare i sondaggi. Non sarà il dato nazionale a determinare chi sarà il presidente, anche se può dirci certo che aria tira, ma sarà il dato in Pennsylvania, in Wisconsin, in Michigan, eccetera. Oggi, se finisse come dicono oggi i sondaggi, prendendo per buoni i sondaggi odierni, cosa che non dobbiamo fare perché i sondaggi sono al massimo una fotografia odierna, appunto, di cosa accadrà tra due mesi. E poi i sondaggi hanno dei margini di errore, di tre, di quattro punti percentuali, i distacchi sono minuscoli, ma se dovesse finire come dicono oggi i sondaggi, coloriamo di blu gli stati in cui Harris ha un qualche vantaggio, coloriamo di rosso gli stati in cui Trump ha un qualche vantaggio, ce ne sono due in cui sono pari anche al decimale, parliamo qui di medie ponderate dei sondaggi, pesate anche sulla base dell'affidabilità dei singoli istituti. Vediamo che Harris arriverebbe a 2,70, che è proprio la cifra, diciamo, quella di confine della vittoria, anche se Trump vincesse in North Carolina e in Nevada, sarebbe indietro di pochissimo. Però ecco, vedete, i distacchi sono in Pennsylvania, dello 0,2%, e non ha nemmeno senso parlarne, dello 0,8% in Georgia, l'elezione è apertissima, e il metodo ci dice anche che uno swing di un punto in una delle due direzioni, anche se uno swing di soltanto un punto, può spostare magari tutti i sette stati da una parte o dall'altra e farci apparire una vittoria molto larga, una vittoria che magari in realtà non lo è. Queste differenze minime che tra l'altro si stanno anche accorciando tra i due candidati negli stati in bilico, di fatto possono giustificare quello che Ugo Montrucchi diceva prima, cioè uno stallo come all'epoca di Algore Bush, qualora ci fossero da riconteggiare, da fare, da riconteggiare, diciamo, le schede in alcuni stati veramente in bilico, cosa che tra l'altro bene o male avevamo visto anche con le ultime elezioni. E come? Innanzitutto perché appunto non esiste la possibilità di muoversi adesso prevedendo che cosa accadrà, perché al momento è impossibile, si possono avere delle sensazioni di pancia, ognuno ha le sue, però sui dati non c'è nessuna indicazione e anche rispetto all'incertezza, sì, al momento dello scrutinio, dato che si vota stato per stato, possono ballare davvero mille schede, duemila schede, diecimila schede e piegare il risultato da una parte o dall'altra, e diventa poi tutto anche molto locale, i tribunali, i riconteggi, i comitati elettorali di Harris e Trump hanno al libro paga centinaia di avvocati che la notte delle elezioni sono pronti e sanno che dovranno prendere degli aerei, non sanno verso dove, ma non appena il comitato capisce che in Georgia c'è un caso, che c'è un problema in Alabama, mettono 30 avvocati su un aereo privato e li fanno arrivare lì il prima possibile, perché che possano subito cominciare a studiare il caso, a prendere le contromisure, e quindi che possano esserci delle code, vi dico meglio alla fine, ma è assolutamente possibile, non dico probabile, ma ecco, non ne sarei stupito. Vediamo un attimo il tema del Nebraska, del Maine, perché non è stato del tutto capito. Il Nebraska e il Maine, che vedete il Nebraska e questo qui al centro, dove vedete il numero 4 è un quadratino blu col numero 1, e in alto il Maine, in alto a destra, vedete che ha la stessa grafica all'opposto, attribuisce parte dei suoi grandi elettori a chi prende più voti dentro il singolo Stato, come tutti gli altri, ma poi decide anche di attribuire una parte di quei grandi elettori, uno per ogni collegio, i collegi della Camera in cui è diviso lo Stato, a chi prende più voti in quel singolo collegio. È un tentativo di proporzionalizzare un po' di più il dato e il risultato in questi Stati, ma fa sì che per esempio il Nebraska sia uno Stato largamente conservatore, a maggiori nello Stato vince Trump senza ombra di dubbio, ma c'è un collegio, che è il collegio di Omaha, che è un collegio urbano, lì vincono i democratici e allora siccome c'è un grande elettore che si dà a chi vince in quel collegio, ci fa dire che in Nebraska almeno uno i democratici dovrebbero prenderlo, in Maine c'è una cosa speculare con i repubblicani. Vi rispondo, e anzi vi racconto in breve qualcosa su questi Stati in bilico, perché non solo sono, vi dicevo, gli Stati in cui avviene la campagna elettorale, i candidati avendo delle risorse limitate, che sono i soldi, è il loro tempo, non possono fare comizi ovunque, decidono dove andare, è una scelta strategica complessa, perché magari c'è uno Stato, non so, la Florida, l'Ohio, una volta erano in bilico, ora non più, il margine non è larghissimo, è arrivato ieri un sondaggio che dà Kamala Harris a meno 4 in Iowa, a meno 5 in Alaska, potrebbe avere la tentazione di dire magari se io investo lì in quello Stato posso ribaltarlo, visto che i sondaggi mi danno una speranza, ma tutti i soldi che Kamala Harris dovesse mettere in Iowa o in Florida, seguendo un risultato improbabile, sono soldi ed è suo tempo che non metterebbe in Wisconsin, in Michigan, in Pennsylvania, lì bisogna vincere, sono tre dei più importanti Stati in bilico, vengono chiamati il Blue Wall, perché storicamente sono Stati che hanno votato a lungo per i democratici, sono gli Stati del settore manifatturiero, dell'industria pesante, dell'industria dell'auto, il Michigan, lo Stato della Ford, di Detroit, di Chrysler, sono gli Stati quindi che hanno sofferto un po' le conseguenze della globalizzazione, il trasferimento in Messico e all'estero degli stabilimenti, ma anche la lenta fine del settore minerario, lo spostamento in Cina di tanta produzione manifatturiera di cui gli Stati Uniti oggi sono importatori. Oggi quindi questi Stati hanno una grande classe operaia largamente impoverita, hanno votato per Trump nel 2016, sono però Stati che hanno anche una forte tradizione di classe operaia, una forte tradizione sindacale, delle grandi università, sono Stati di aree urbane molto importanti, c'è Detroit, c'è Philadelphia, in Pennsylvania, sono Stati in cui Biden vinse invece nel 2020, in cui oggi Harris è data in un qualche vantaggio, anche perché, ne parliamo tra poco, una delle cose che è accadute in questi anni, anche a seguito di questi grossi investimenti del Governo federale, è una specie di inizio di reindustrializzazione di questi Stati. Il decoupling con la Cina ha fatto sì che aprissero in questa regione, oltre che in questi Stati, tanti nuovi stabilimenti che si occupano di batterie, per esempio, di auto elettriche, di industrie che hanno una qualche futuribilità, mentre l'industria dell'auto è invece tradizionale oggi attraverso un momento complicato. Un'altra regione che comprende tre Stati in bilico che hanno qualcosa in comune è quella della cosiddetta Sunbelt, sono gli Stati del Sud, anche per questo si chiama Sunbelt, è una cintura in cui, diciamo, il tempo è più bello, la regione è quasi tutto desertico, ma in generale si sta meglio in inverno rispetto al nord. Sono posti diversi, soprattutto quelli che vedete a Ovest, Nevada e Arizona, che sono quasi completamente desertici, sono posti in cui l'America esiste davvero per quello che è oggi da quando esiste l'aria condizionata, tutto sommato, l'Arizona a Phoenix come grande città, il Nevada a soltanto Las Vegas, il resto è agricoltura, riserve indiane, ma questi centri urbani che hanno tutto questo spazio e che sono un pezzo di una storia di successo dell'America di questi anni, sono un pezzo di America che ha una grande crescita demografica, una grande crescita economica, le persone si trasferiscono dall'est, dagli Stati del Midwest, dalla California, anche molto in questi Stati perché trovano casa a un prezzo più basso, perché oggi, anche se sei in mezzo al deserto, si può vivere in un modo più che dignitoso, le aziende trovano spazio per stabilimenti sempre più grandi, insomma, sono storie di Stati che crescono molto e, anche se non è desertico, una cosa simile si può dire per la Georgia, uno degli Stati che cresce di più sul piano demografico per l'immigrazione, ma non solo, anche per il tasso di natalità a una enorme città che è Atlanta, che ha l'aeroporto più trafficato degli Stati Uniti, la Coca-Cola come azienda più famosa, ma in generale è una di quelle città e vale anche per il North Carolina, che è lo stato un po' di confine in America tra il nord e il sud, un altro stato in bilico, che sono diventate negli ultimi anni dei grandi poli attrattivi per via della presenza di università importanti che sfornano laureati ogni anno in un contesto di mercato del lavoro saturo o quasi saturo, come è stato in questi anni, posti come il North Carolina, come la Georgia, ma per certi versi anche come il Texas, anche se non è uno stato in bilico e questa è la sua storia, hanno attratto molte aziende, molti investimenti, hanno rappresentato e sono diventate un'alternativa ai più tradizionali centri economici americani, Chicago, New York, Los Angeles, naturalmente San Francisco. Quali sono i temi principali a queste elezioni? Ma diciamo che ci sono tre grandi questioni. La prima è la solidità che vediamo in questo grafico a sinistra che l'economia americana ha mostrato soprattutto in relazione alla Cina dopo la pandemia. I grafici che abbiamo visto per decenni che mostravano un inesorabile sorpasso del PIL cinese su quello americano oggi ci dicono che secondo alcune previsioni quel sorpasso o non arriverà del tutto o arriverà sempre più lontano nel tempo. Sono due paesi che sono usciti dalla pandemia in modi molto diversi. L'altra grande realtà però che mina un po' anche le certezze dei consumatori americani è l'inflazione che gli americani continuano a vedere in un modo che per me anche devo dirvi dell'inspiegabile. Io vado lì continuamente parlo con le persone comuni anche dell'inflazione. Continuano a vedere come un fenomeno americano che ha avuto delle cause americane, delle soluzioni eventualmente americane. Alcuni ce l'hanno a morte con il presidente Biden per le politiche di spesa che poi certamente ci sono state e sono state senza precedenti in termini di migliaia di miliardi di dollari investiti a debito. Noi sappiamo che l'inflazione è stato un fenomeno globale o comunque certamente non soltanto americano che ha avuto delle origini nei problemi creati alle catene di produzione del valore durante la pandemia, problemi energetici, ma ecco gli americani sono consapevoli di questa grande forza della loro economia i cui però risultati e benefici tendono ad attribuire il merito di questi risultati a se stessi. Il business va benissimo, il mio negozio va alla grande, ho avuto due promozioni, ho trovato un lavoro che mi paga molto più di prima e tendono a non vedere invece come la globalità della della crisi internazionale attorno all'inflazione abbia anche superato poi quello che era nelle loro possibilità. In mezzo vediamo che ci sono delle storie di successo particolare, alcune ve le indicavo prima, la Florida però fa parte della regione di cui citavo anche la Georgia, il Texas lo menzionavo poco fa, il Nevada, ci sono degli stati che sono cresciuti in questi ultimi anni, questa è una percentuale che vedete in un'evoluzione di due anni, due anni e mezzo a tassi che un tempo avremmo considerato cinesi e non sono stati poveri o che erano poveri e quindi questo spiega il rimbalzo. Il Texas è lo stato che produce più energia dalle fonti fossili ma adesso anche dal solare e adesso anche dall'eolico. La Florida sta avendo una migrazione da parte di professionisti soprattutto nell'area di Miami che è una nuova immigrazione anche rispetto a quella del passato che è sempre stata un po' di, una volta si diceva per prenderli in giro, la terra dei new yorkesi quando vanno in pensione. Ecco oggi la Florida è un posto economicamente straordinariamente vivace senza che fosse un posto povero fino a qualche anno fa. A chi si rivolgono i due presidenti? Trump quando parla nelle sue politiche a che tipo di audience si rivolge? Lo stesso magari per Kamala Harris, cioè stiamo parlando di classe operaia, dirigenti, aziende oppure immigrati? La risposta a questa domanda la possiamo ricavare un po' dai dati storici soprattutto per quanto riguarda Trump. Sappiamo già avendolo misurato in due elezioni qual è più o meno la sua base di consenso e in parte poi dai sondaggi che vengono fatti anche in queste settimane che segmentano il voto per esempio soprattutto sulla base di segmenti demografici. Negli Stati Uniti l'identità delle persone conta più del censo della classe di quanto guadagni anche nel determinare le posizioni elettorali. Questo non vuol dire che il censo dei soldi non contino, ma l'elettorato di Trump è un elettorato prevalentemente bianco, è prevalentemente maschile, è prevalentemente composto da persone con un titolo di studio che non è una laurea. Quando dico prevalentemente vuol dire in maggioranza, non vuol dire che non ci siano laureati o non ci siano persone non bianche o non ci siano donne, figuriamoci, ma quello sul piano demografico è il suo target di riferimento, l'elettorato dei democratici è un elettorato tendenzialmente più giovane, più femminile, peraltro questa è una tendenza che non è sempre stata così nella politica americana. Negli ultimi 15-20 anni si è avuta questa divaricazione per cui gli uomini votano sempre più a destra, le donne sempre più a sinistra e più multietnico. Tenete conto che se prendiamo gli afroamericani come blocco l'80% vota per i democratici, se prendiamo i latinoamericani come blocco siamo tra il 55 e il 60%. Questa è una percentuale che ciclo dopo ciclo va scendendo, cioè gli americani si distribuiscono sempre più tra i candidati non partendo dal colore della pelle, ma c'è un dato di fatto che è ancora un fattore evidente. Quanto al reddito, di fatto segue un po' lo schema del titolo di studio. Tra le persone che hanno un basso titolo di studio Trump va bene e va bene anche tra le persone con un reddito alto, perché ci sono poi persone, imprenditori, piccoli imprenditori che guadagnano bene negli Stati Uniti senza essere laureati. Tra le persone laureate Harris va molto bene e questo fa sì che vada molto bene in una fascia di contribuenti che sta nella classe medio alta, diciamo, di borghesia, di coppie con due redditi, di coppie laureate. Tra i ricchi, super ricchi, diciamo, tra chi ha più di qualche milione, non solo tra il patrimonio immobiliare, ma anche di patrimonio di liquidità o patrimonio investito, Trump ha la meglio di gran lunga. Tra i super ricchi, Trump è il candidato preferito. Grazie. Quindi se posso racchiudere, insomma, i democratici sono più verso il ceto medio alto, donne e in un certo senso giovani, i repubblicani invece uomo, etnia, diciamo, bianca e comunque anche i super ricchi. Sì, e anche il ceto basso, soprattutto se non è laureato, ma dall'altra parte ti direi gli afroamericani poveri però votano per i democratici. Insomma, i segmenti poi si intrecciano anche molto. Un po' un mistone. In molte città si parla anche di degrado, New York, Los Angeles, Miami, San Francisco, quindi anche con un acquirsi poi delle differenze sociali. È un aspetto che anche questo incide? È reale o sono solo, diciamo, spot giornalistici. No, no, è reale, è stato reale soprattutto negli anni successivi alla pandemia, in cui nell'arco di un anno, un anno e mezzo sono cresciuti moltissimo i reati violenti in tutte le città, ma con tassi di crescita degli omicidi anche del 100% anno su anno, quindi di furti, di rapine. Ne parlo tra un attimo perché è un tema che si lega alla politica sulle forze dell'ordine, si lega anche molto all'immigrazione, che è un altro tema importante di questa elezione. Quindi chiudo la parentesi economica. Trump promette dazzi del 10% sulle merci che arrivano innanzitutto dalla Cina, ma poi da chi si comporta scorrettamente in generale, e promette una grande stretta dell'immigrazione irregolare e regolare, compresa la deportazione, poi di questo vi dico meglio, degli immigrati irregolari in America. Impossibile, diciamo, sul piano anche soltanto logistico, parliamo di 15 milioni di persone, ma sono queste proposte inflattive, lo dicevamo anche un attimo fa, se metti i dati del 10% e togli i 10 milioni di immigrati irregolari, ma che sono spesso presenti nel paese da anni e che lavorano, si crea una spinta forte all'aumento dei prezzi. Inoltre Trump propone un grosso taglio delle tasse, che normalmente, canonico per i politici repubblicani, che normalmente i politici repubblicani prometterebbero di pagare con un taglio dei servizi. Trump però, già durante il suo mandato, ha dimostrato di non essere affatto propenso a tagliare la sanità, a tagliare le pensioni, per cui durante il suo primo mandato, per esempio, non fece la riforma della sanità, fece un taglio delle tasse, ma pagandolo interamente a debito. E questa è una grossa questione da aprire, dovesse vincere Trump e volesse quindi approvare un nuovo taglio delle tasse, come lo paga? Soprattutto in un momento in cui il debito ha un costo diverso rispetto a quello del suo primo mandato, che era quello pre-Covid, inflazione inesistente, eccetera. Cosa aspettarsi da Harris? Harris promette politiche di grande ridistribuzione rispetto, per esempio, alla classe media, classe medio-bassa, alzando le tasse su chi guadagna più di 400 mila dollari l'anno come nucleo familiare e poi anche sulle rendite da capitale, ne parlavamo un attimo fa, c'è una discussione anche di tassare i guadagni non realizzati, che non è una promessa di Harris, ma è una discussione che sta avvenendo, allo scopo di investire non solo nelle misure di welfare, di tax credit, per esempio, per i genitori che fanno i figli, ma anche ancora in infrastrutture, moltissimo, che è stato il grosso investimento poi dell'amministrazione Biden di questi anni, legato il tema delle infrastrutture, molto sia alla rivalità con la Cina, ma anche rispetto al cambiamento climatico e quindi alla transizione energetica che negli Stati Uniti sta già avvenendo e a un ritmo anche piuttosto impetuoso. Gli Stati Uniti già oggi ci sono giorni in cui producono la gran parte della loro energia tramite fonti rinnovabili e stanno producendo in generale più di tutto, sono anche ai livelli record di produzione energetica dal gas naturale che vendono all'Europa, dal petrolio, sono oggi un esportatore netto di energia. Nel caso di Harris ci si aspettano anche politiche economiche più prevedibili, nel senso che Trump, anche per il suo stile caotico di governo col congresso, col suo staff, con i suoi economisti, promette una variabilità maggiore di annunci, di promesse, di cose che si realizzano oppure no. Nel caso di Kamala Harris le sue proposte possono piacerci o meno, ma ci si aspetta una navigazione leggermente più tranquilla. Occhio al settore tech che tra democratici e repubblicani che non vanno d'accordo su nulla, se c'è una cosa su cui vanno d'accordo da qualche anno, è vedere con un certo scetticismo, se non addirittura aperta ostilità, pezzi importanti del settore tecnologico e quindi spingere per maggiori regolamentazioni sulla libertà di parola, sulla moderazione dei contenuti e non solo, sul rispetto della privacy, sul fatto che queste aziende diventino troppo grandi e quindi ci sono già dei procedimenti in corso che riguardano Alphabet, che riguardano Meta, col rischio che queste aziende possano essere costrette a dismettere alcuni asset, c'è la questione TikTok perché la questione poi tech ha anche molto a che fare con il livello internazionale, con la Cina e quindi con i CIP, con Taiwan, insomma il settore tech è un settore da tenere d'occhio con molta attenzione sul piano giornalistico, sicuramente sul piano finanziario non mi spingo a dire lo stesso ma mi sembra che insomma sia emerso anche dall'intervento precedente. Altro grosso tema è l'aborto, l'interruzione di gravidanza a questa elezione perché dal 2022 con una sentenza della Corte Suprema, grazie anche a tre giudici scelti da Trump nel corso del suo mandato che hanno cambiato l'equilibrio della Corte, non esiste più il diritto di interrompere una gravidanza negli Stati Uniti. I singoli stati possono decidere di permetterlo, cioè non c'è un obbligo, un divieto di aborto, ma non è più un diritto, quindi ogni stato legifera come vuole e più di 20 stati, quelli governati dai repubblicani soprattutto hanno stabilito dei limiti molto stringenti, a volte anche sei settimane, oppure dei divieti assoluti e quello che è successo è che intanto è ricresciuto il numero degli aborti che stava diminuendo ma questo è un trend che vediamo in Europa, che vediamo dappertutto, più diventa difficile interrompere legalmente una gravidanza, più diventa complicato, più poi aumentano le interruzioni di gravidanza regolari e irregolari, soprattutto gli americani sono alle prese con ogni settimana ormai un catalogo di storie dell'orrore, di donne che vorrebbero portare a termine una gravidanza ma che soffrono un aborto spontaneo, ma finché le loro condizioni non sono gravi abbastanza, i medici non possono intervenire perché possono intervenire soltanto se la madre rischia di morire, ragazze e ragazzine violentate che sono costrette a portare a termine una gravidanza frutto di quello stupro avendo magari 15-16 anni, la maggioranza, grande maggioranza della popolazione americana è favorevole alla libertà di scelta, anche tra i repubblicani e questo ha fatto sì che i repubblicani in questi anni perdessero anche dei referendum sull'aborto in stati in cui sono molto forti, oggi Harris punta tantissimo su questo che è il suo tema più forte per attaccare Trump, Trump cerca di parlarne il meno possibile, ha anche detto che voterà a favore della libertà di scelta in un referendum in Florida, è un tema che lo mette abbastanza in difficoltà. L'immigrazione è un altro enorme tema perché dalla fine del 2020 negli Stati Uniti sono entrati irregolarmente, si stimano 9 milioni di persone, sono il triplo di quelle entrate nei quattro anni precedenti, questo porta probabilmente a 15-16 milioni di persone il numero degli immigrati irregolari presenti negli Stati Uniti, è successo perché quando è arrivato dall'amministrazione Biden ha smantellato rapidamente il sistema di protezione del confine e di soprattutto disincentivo dell'immigrazione messo in piedi dall'amministrazione Trump che era poi quello che Biden aveva promesso alle elezioni e quel sistema era un sistema anche molto brutale, forse ricorderete le storie, le immagini dei bambini separati dai genitori e chiusi in prigione per settimane, per mesi, genitori che hanno ritrovato i loro figli a volte non li hanno ritrovati del tutto, a volte dopo mesi di indagini complicatissime. A fronte di quello smantellamento però l'amministrazione Biden non mette in piedi un sistema di controllo e di regolamentazione efficace dell'immigrazione irregolare, anche perché non ha la collaborazione del congresso, che non gli vota nessuna delle proposte che Biden prova a implementare, ma anche per una clamorosa sottovalutazione colpevole secondo molti elettori che ha fatto sì che insieme a un allargamento dell'interpretazione sul diritto all'asilo e sulle norme che regolano il diritto all'asilo, intere città, soprattutto nel sud del paese, fossero costretti a fare i conti ogni mattina con 5.000 persone arrivate stanotte e l'indomani altre 4.000 e l'indomani altre 3.000. È diventata una crisi umanitaria che da quelle parti al confine ha travolto città governate dai democratici peraltro, in cui i sindaci democratici hanno criticato pesantemente l'amministrazione Biden che si è svegliata soltanto nell'ultimo anno, senza riuscire a far passare un accordo al congresso, ma è riuscita a intervenire, dimostrazione diciamo si poteva fare anche prima, oggi i livelli di passaggi irregolari al confine sono tornati a livelli diciamo normali, ma è una grossa questione. Pensate che oltre la metà dei cittadini americani si dice favorevole a un programma di deportazione di massa anche tra i democratici, quindi anche tra gli elettori democratici si chiedono misure repressive che hanno sull'immigrazione, perché questa immigrazione di fatto senza controlli ha fatto sì che non solo ha contribuito a questo momento della criminalità di cui parlavamo un attimo fa, ha contribuito a una percezione di generale insicurezza in tante città americane, non solo del confine poi, le grandi città New York, Chicago, Philadelphia che hanno poi accolto molti di questi richiedenti asilo di nuovo senza avere un piano, senza avere delle risorse, infrastrutture utili a New York, gli italiani che vanno in vacanza si accorgono che sono cresciuti molto i prezzi degli alberghi. Una delle ragioni è la legge su Airbnb che ha di fatto tolto agli alberghi la concorrenza di Airbnb, un'altra delle ragioni è che una gran parte degli hotel diciamo a basso costo, gli hotel 2-3 stelle di Manhattan durante la pandemia era stata costretta a chiudere o hanno preferito diventare degli ostelli, dei rifugi per richiedenti asilo e non hanno più riaperto dopo e quindi manca tutta quell'offerta di alberghi per gli italiani in vacanza, dimostrazione poi di quante ramificazioni ha un discorso e un argomento come questo. Il tema principale però a ogni elezione americana è sempre lo stesso ed è lo stesso di sempre ed è quale candidato riesce a raccontare agli americani una storia sul loro presente, sul loro passato e sul loro futuro che gli americani trovino convincente e che quindi meriti quel tipo di fiducia e ogni volta può essere una storia più o meno ottimista, più o meno pessimista, più o meno aggressiva o autocritica sull'America e su se stessa e sul futuro. Vediamo in questa campagna elettorale due storie molto diverse, lo vediamo già negli slogan. Make America Great Again è uno slogan che ha una evidente inclinazione nostalgica, rendiamo l'America grande di nuovo, come una volta, come in passato, non è mai chiaro a che tipo di passato si riferisca Trump, ma lo dice spesso che l'America non è più rispettata, che l'America non è più quello che era prima. Nel caso di Kamala Harris lo slogan è A New Way Forward, una nuova strada in avanti ed è chiaro che il messaggio è totalmente spostato ed è un messaggio più ottimista e di fiducia nel futuro e di proposta agli americani di voltare pagina rispetto a un passato di cui Kamala Harris sta provando almeno a dire questo, di cui fanno parte anche i democratici. Kamala Harris sta dicendo voltiamo pagina rispetto a tutto quello che ha rappresentato l'era precedente e abbracciamo un'era nuova perché io stessa sono un personaggio nuovo, una faccia nuova. I giornali, almeno in Italia, dopo il dibattito, l'unico finora che c'è stato tra Kamala Harris e Donald Trump, hanno detto Kamala Harris è riuscita nel miracolo forse di risultare una persona nuova, anche se in realtà è stata comunque alla Casa Bianca negli ultimi quattro anni, neanche ad esempio il discorso che dicevi prima sull'immigrazione, anche lei fatica forse smarcarsi da questo. È una sensazione quella del nuovo che c'è anche in America su Kamala Harris oppure è solo una visione giornalistica italiana? No, questa è la grande questione attorno a cui ruota la sua campagna elettorale perché lei è stata alla Casa Bianca, ha governato il paese con Biden e d'altra parte lei stessa si prende il merito delle cose più popolari fatte da Biden, per esempio la trattativa sul prezzo dei farmaci che ha fatto scendere moltissimo i prezzi di farmaci salvavita negli Stati Uniti, quando però si arriva alle cose che non hanno funzionato lei si difende o i suoi promotori poi i sostenitori la difendono dicendo che è vero ma il vicepresidente non può fare nulla, non ha nessun potere ed è vero non ha nessun potere, non ha nessuna autonomia, però allora diciamo o ti prendi il merito di Biden e ti prendi anche le colpe o non ti prendi nulla e in questa ambiguità è la stessa ambiguità che vi raccontavo quando dicevo lei va a dormire la sera a Washington al Naval Observatory che è la residenza del vicepresidente ma si presenta come l'outsider, chi arriva da fuori e chi vuole cambiare tutto, è chiaro che c'è una grossa ambiguità ma fa il paio con l'ambiguità del suo avversario che domina la politica americana peraltro in un modo presentissimo, rumoroso, è difficile ignorare Trump ormai dal 2015 stiamo per compiere diciamo dieci anni e anche lui ha governato per quattro anni e anche lui quindi poi tante promesse che fa si prestano alla stessa domanda perché non lo hai fatto, quando ed è questo che rende anche questa campagna elettorale così complessa da leggere hai un outsider che non è un vero outsider, hai un incumbent che non è una vera incumbent perché poi c'è appunto un fattore di novità radicale in un paese in cui l'identità conta così tanto anche in politica, il fatto che Kamala Harris sia una donna e che non sia bianca in ogni caso le dà anche la possibilità di descriversi come parte del futuro, cosa che Biden non avrebbe mai potuto fare ovviamente. Vi racconto un altro paio di cose tematiche, una a che fare col rapporto con l'Europa che è uno dei grossi temi per noi, non è un grande tema di questa campagna elettorale, questo forse è anche un pezzo della risposta, il rapporto con l'Europa è visto dagli Stati Uniti da ben prima che arrivasse Trump, già dalla fine del mandato Clinton probabilmente come destinato a scemare per importanza, per strategia, per priorità nella tutela degli interessi americani, non dimentichiamo qui che gli americani eleggono qualcuno che protegga i loro interessi innanzitutto e non quelli degli europei ovviamente e questo ha consistito nel tempo in tentativi di trovare accordi commerciali per rendere almeno più conveniente, più ricco e abbondante il commercio con l'Europa, tentativi falliti. Poi quando è arrivato Trump anche dei dazzi contro le aziende europee, un generale raffreddamento dei rapporti diplomatici e quanto a l'elemento che ha tenuto in piedi forse l'alleanza tra Stati Uniti ed Europa nella seconda metà del novecento una certa tentazione americana di disimpegno militare. Guardate questa mappa, ci sono le basi aeree americane, le basi militari americane in Europa. Sono tante, sono in gran maggioranza in Germania. La Germania è il paese al mondo con più soldati americani, America esclusa. Ed è chiaro che questa realtà è frutto della seconda guerra mondiale, no? Il secondo paese dopo la Germania al mondo con più soldati americani è il Giappone. L'Italia ne ha una certa parte e questa fotografia è una fotografia che oggi gli americani considerano obsoleta, frutto di un mondo che non esiste più, il mondo della guerra fredda, ed è un mondo in cui gli americani hanno provveduto anche alla sicurezza europea e oggi non intendono farlo come prima e quindi Trump ce lo dice in malo modo ma i democratici più educamente dicono la stessa cosa. I paesi europei devono raggiungere l'obiettivo di investimento militare previsto dall'accordo della Nato e se l'Ucraina è un grosso problema come lo è dovete occuparvele innanzitutto voi e in prima istanza voi. Poi le scelte politiche lì attengono all'Europa come occuparsene e come gestirlo. Chiaramente la vittoria di Trump renderebbe molto più urgente trovare una soluzione alla crisi ucraina perché non si pensa che Trump possa a lungo termine garantire il sostegno che hanno dato fin qui gli Stati Uniti e l'Ucraina. Quello di Harris permetterebbe di trovare un modo più concertato anche e forse più graduale ma il punto rimane e gli americani lo stiamo già vedendo lo vedremo sempre di più anche per quanto riguarda il Medio Oriente e il Nord Africa pensano sempre meno che quel pezzo di mondo debba meritare la loro presenza, i loro investimenti, le loro attenzioni a vantaggio invece dell'Asia. Questi sono i beni e le categorie di beni che noi europei esportiamo di più negli Stati Uniti nel 2023. È chiaro che un contesto di possibile vittoria di Trump e quindi di possibili dazi o comunque di raffreddamento nei rapporti con l'Europa possa avere delle conseguenze innanzitutto su questo tipo di beni. Naturalmente poi di nuovo torniamo anche al tema del congresso perché è vero che la questione dei dazi in una certa misura attiene ai poteri presidenziali e sono decisioni che si possono adottare senza che passi una legge dal congresso ma rispetto al commercio, alla ratifica dei trattati, alla scrittura dei trattati eventuali ma anche rispetto alle leggi sulla reindustrializzazione, allo stanziamento di fondi in questo senso, insomma alla concorrenza che gli Stati Uniti possono fare al resto del mondo. Il congresso conta parecchio e con questo chiudo. Si vota per rinnovare tutti i seggi della Camera. Oggi i sondaggi dicono che i democratici dovrebbero riconquistare la maggioranza alla Camera soprattutto se Harris dovesse vincere la Casa Bianca ma potrebbero anche vincere alla Camera se Trump vince la Casa Bianca al Senato e con ogni probabilità saranno i repubblicani ad avere la maggioranza perché si rinnova soltanto un terzo del Senato e quindi volta per volta bisogna capire in quali Stati si vota, chi sono gli uscenti eccetera. Si vota in molti modi in America, si vota per posta, si vota a distanza, si vota in anticipo, si vota a volte anche molto in anticipo, in qualche Stato si vota già tra qualche settimana. Questo vuol dire che arriveranno molte schede diverse nei seggi e vuol dire che lo scrutinio potrebbe richiedere del tempo. Potrebbe essere che non sapremo tutto il 5 novembre, la notte tra il 5 e il 6, non sarà come il 2020. Il 2020 c'era la pandemia e quindi c'era un numero di persone che votarono per posta che dovrebbe essere superiore a quello di quest'anno e in generale un contesto in cui anche per fare lo scrutinio dal distanziamento ai limiti di presenza era tutto molto più tortuoso. Non vuol dire però che sarà tutto tranquillo perché potranno passare dei giorni comunque perché possiamo dare per certo adesso che o Donald Trump vince le elezioni o Donald Trump le perde ma in quel caso non dirà mai di averle perse. Lo conosciamo abbastanza, Donald Trump non ha mai ammesso la sconfitta ogni volta che ha perso le primarie quando gli capitò mai, nemmeno al dibattito che ha perso la settimana scorsa ma anche quando vinse nel 2016 lui disse che il voto era truccato perché aveva vinto anche nel voto popolare. Ora Trump non è il presidente a questo giro, non c'è 6 gennaio ratifica su cui lui possa avere dell'influenza ma chiaramente un candidato alla presidenza degli Stati Uniti che ha quel tipo di precedenti anche nell'istigare la rabbia dei suoi sostenitori crea una incertezza anche per quanto riguarda solo l'ordine pubblico se volete per i giorni successivi al voto secondo quello che accadrà in questi risultati. Grazie a tutti. Grazie a tutti.